Siamo nell'ultimo teaser di Freddy's 4, ci sono bel 5 teaser, questi sono il cappello viola e copione viola di fredbear o di nightmare allora fredbear viene nella quinta notte invece nightmare viene nella notte 7 e anche nella 2020 challenge allora poi vediamo una luce qua questa è trovata un'altra luce tipo di un pavimento e cerchè vedere alcune cose di pavimento quindi sono quasi una strana ombra però non di questa quale il cappello un'altra allora in questo teaser si sa se il cappello e il pavimento sono o di fredbear o di nightmare perché fredbear e nightmare sono uguali allora non c'è scritto nessuna parte qualcosa tipo come gli altri poi niente siamo scritti fino al cappello was it me was it me or car o almeno credevo cioè nemmeno credo che si che non mi ricordo se ci fosse sarà ancora un altro teaser tipo di nightmare tutti i quali sarebbero chiesti chi sarebbe perché nessuno sa questo nome poi finalmente l'hanno scoperto ci sarebbe voluto stare anche teresa teaser di plush trap o dei piccoli freddy freddless baby freddy vabbè come si chiamano da qua ad orari che mi troppo questo questa ultima teoria di fanate freddy 4 ovviamente però esiste ancora un'altra teoria che però non voglio fare nel prossimo bisogno la voglio fare ad halloween Quindi ad Halloween Aspettate a forza di erro che C'è un teaser un po' strano Tipo di una zucca Una zucca di Halloween Credo che siano noi nemici Che ci terranno Infatti di Freddy's 4 Halloween Halloween Edizione